Bella a tutti friends e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Siamo all'interno delle sfide del Fortnite, andiamo a vedere quale è uscito la numero 81 Che ci richiede di accessibile di giorno nei pressi di un cuneo di cactus sulla cima di una montagna Perciò come al solito andiamo a selezionare una di queste qualsiasi modalità di gioco eccetto la creativa e parco giochi Io la vado a saltare in singolo anche se sono sicuro che troverò una bordata di gente Ma non mi interessa niente, vi faccio vedere subito la posizione esatta Mentre stiamo raggiungendo il Fortnite numero 81, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale e attivare la campanella delle notifiche Se vi interessano tutti i Fortnite presenti all'interno del gioco di Fortnite Perché quotidianamente vi porterò questi generi di video dove andiamo a vedere insieme dove si trovano questi Fortnite Allora all'interno della descrizione di questo Fortnite c'era scritto che si trova solamente di giorno Quindi mi raccomando se è notte, ora noi qui siamo al giorno, perciò lo troveremo con facilità Meno male c'è solo una persona Vediamo un po' se ce lo dà Accessibile di giorno nei pressi di un cuneo di cactus sulla cima di una montagna Ci siamo guardati sulla faccia, io e questo Viscito mi killa, non mi killare, non mi killare Ok, io mi sono ributtato perché prima non ce la dava Ok, ora ce lo dà, si vede che non era giorno pieno Eccolo qui, accessibile di giorno nei pressi di un cuneo Quindi mi raccomando, accessibile di giorno signori Deve essere credo giorno pieno per poter attivare e sbloccare questo Fortnite Signori, speriamo che il video vi sia stato utile Vi faccio vedere la posizione esatta Ci troviamo esattamente in questa montagna Qui, lasciate un bel mi piace Mi raccomando condividete questo video con i vostri amici Almeno anche loro, ovviamente ci deve stare sempre qualcuno che è un Viscito Almeno anche loro, vi stavo dicendo, riescono a trovare questo Fortnite Nella maniera più semplice e facile in assoluto Noi ci vediamo questa sera con la live e le belle messe a me Noi ci vediamo questa sera con la live e le belle messe a me